dove vola l'avvolto io avvolto io vola via vola via dalla terra mia che è la terra dell'amor un'antica canzone di italo caldino che quest'anno avrebbe compiuto cento anni grande scrittore lo sappiamo tutti è partigiana questo lo sanno in meno una canzone contro la guerra allora perché oggi iscriversi a lampi perché forse fra le altre cose è la principale associazione che ha preso da subito una posizione di netta ostilità alla guerra in questo conflitto problematico però lampi ha saputo avere una voce che è un'unica voce e questo è che è una voce unica soprattutto credo che questo sia già un buon motivo per iscriversi fra i partigiani della pace dell'ampi